Dotazione organica, ristrutturazione e riorganizzazione sono le tre principali linee d'azione in favore dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca e più in generale della sanità del territorio saccense, annunciate oggi pomeriggio dal nuovo direttore generale dell'ASPE di Agrigento Giorgio Giulio Santonocito durante l'incontro con i sindaci che si è svolto all'interno della sala Piraino del nosocomio saccense. Pochissimi in realtà i sindaci presenti erano soltanto in tre, Francesca Valenti, Margherita Larocca Ruvolo e Paolo Segreto. Nuovo manager della sanità agrigentina che in riferimento al Giovanni Paolo II ha parlato di un ospedale dalle grandi potenzialità, riconoscendo al contempo l'esigenza di una miriade di interventi da effettuare e indicando come priorità assoluta la dotazione organica. Sono già stati avviati i concorsi per l'area di emergenza, annunciato Santonocito e l'imminente pubblicazione del decreto regionale con cui diventerà definitiva la nuova rete ospedaliera siciliana consentirà di completare le assunzioni. Ci sono inoltre tanti lavori di ristrutturazione e manutenzione che si rendono necessari, molti dei quali nell'area del pronto soccorso. Abbiamo verificato a Palermo in assessorato che i fondi ci sono e di qui a qualche mese avvieremo i relativi bandi di gara, ha proseguito il manager dell'ASP. Nuovo direttore generale che ha poi garantito che sarà rilanciata la banca del cordone ombelicale e che ha invece definito grave la condizione in cui versa l'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera. E insieme ai sindaci con l'accordo siglato oggi che intendo portare avanti le varie attività attraverso un'azione sinergica, ha concluso il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale.